Che sia tango, waltzer, flamenco o una danza tradizionale cinese non importa. L'importante è ballare insieme, all'aperto, nelle piazze o nei parchi pubblici. In Cina, negli ultimi anni, ogni giorno centinaia di signore di una certa età, ribattezzate le ziette danzanti perché sono soprattutto donne, passano così il loro tempo, a suon di musica e movenze scatenate. Alcune con il tempo, a forza di ritrovarsi ogni giorno e di ballare insieme, hanno messo su delle piccole compagnie con cui si esibiscono per il pubblico anche sui palcoscenici o partecipano a competizioni che ormai contano migliaia di concorrenti. È nata anche una disciplina, la square dancing, la danza di piazza, con tutto un mercato fiorente di accessori, costumi e gadget vari annesso, comprese app per gli smartphone. La signora Zhang, 55 anni, pensionata e a capo della Xini Dance Team di Shanghai, racconta Prima avevo molti problemi di salute, soffrivo di dolori al collo, alla schiena, avevo la pressione alta, il colesterolo alto e il diabete. Con la danza tutto si è normalizzato, ho smesso di prendere medicine, ho avuto anche un tumore all'intestino, ho cominciato a ballare dopo essermi operata. Adesso ho tutti i valori buoni e sembro anche più giovane. Dopo la pensione mi sono chiusa in casa, mia figlia mi ha spinta ad uscire e a socializzare e adesso ho iniziato a venire qui in questo parco e mi diverto molto, dice un'altra donna. All'inizio i balli di piazza rispondevano a due esigenze, il benessere con il movimento e la vita sociale. Poi si sono formati dei gruppi che hanno cominciato a imparare i balli e gradualmente il livello è salito fino ad arrivare a premi e competizioni. Spiega Han Xiaoyuan, fondatore di una di queste gare di ballo di piazza. Non è però solo questione di divertirsi, mantenersi giovani e in forma e socializzare. Le ziette ballerine fanno gola a molti e c'è sempre più interesse attorno alle attività connesse all'intrattenimento e al benessere degli anziani in generale. In una Cina in cui la popolazione invecchia bene, in cui oltre 240 milioni di persone hanno oltre 60 anni. Un numero che si stima raddoppierà entro il 2050.